Uno strumento, una storia, una tradizione. Un evento recente ma che già diventa simbolo a Mondolfo grazie al progetto 50x50 di Pesaro 2024 che in occasione della settimana dal 19 al 25 agosto sarà protagonista di sette giorni tutti da vivere e da scoprire. È per noi un motivo di grande orgoglio partecipare a questo appuntamento così importante con un festival che rappresenta la marchigianità. Tramantici è nato lo scorso anno con la volontà dell'amministrazione comunale di promuovere e valorizzare uno strumento popolare che ha caratterizzato per oltre un secolo la storia artigianale di Mondolfo con produzioni di grande valore conosciute in tutto il mondo. Questo strumento è il simbolo di radici, identità e tradizioni con cui ci vogliamo presentare ai tanti turisti che verranno a visitare la nostra provincia e il comune di Mondolfo in questa settimana. Invitiamo tutti a partecipare, sarà un ricco calendario di appuntamenti con concerti di qualità diffusi su tutto il territorio che ci permetteranno anche di far visitare i luoghi più belli e suggestivi di Mondolfo e Marotta, dal centro storico al mare. Saranno sette appuntamenti importanti, quindi ogni giorno ci sarà un concerto e quindi sia alla sera ma anche concerti all'alba in luoghi suggestivi il Chiostro di Sant'Agostino e il Bastione Sant'Anna a Mondolfo in piazza dell'Unificazione al Molo di Marotta per quanto riguarda il nostro lungomare, quindi sarà un festival tutto da vivere con uno spettacolo straordinario tutte le sere. Aver scelto questa settimana immediatamente dopo Ferragosto con un programma che va a mettere l'accento su una seconda edizione di una scommessa già fortunata nello scorso di un festival di organetto e fisarmonica e credo che sia una scelta molto appropriata perché ha dato più forza quella manifestazione, speriamo anche più visibilità e ancora più partecipazione e soprattutto sono sette giorni di grandissima programmazione gratuita di uno strumento che da solo e in dialogo con altri strumenti contemporanei rappresenta gran parte del patrimonio musicale, popolare ma anche di alto livello che può essere rappresentato con una scuola marchigiana incredibile sia di artisti che di grandi maestri e che è rappresentata in gran parte anche in questa rassegna, è anche una storia di produzione di strumenti che anche a Mondolfo come in altri luoghi della nostra provincia, della nostra regione storicamente hanno rappresentato riferimento a livello mondiale e altrettanto appunto l'opportunità di ascoltare uno strumento che da solo è in grado di fare festa grazie alla forza dei mantici che danno il massimo della potenza al suono che è uno strumento che unisce i grandi teatri con la storia dell'Aia o di tanti luoghi anche di campagna dove anche dopo la guerra in mancanza di altro da solo poteva fare festa quindi un grandissimo strumento e siamo felici che Mondolfo nella propria settimana del Capitale Italiano della Cultura condivisa con Pesero abbia messo questo accento così importante